A Gela c'è voglia di destra, una destra che deve contrapporsi alla disamministrazione della sinistra di questi anni e che non ha alcuna intenzione di fare sconti alla Giunta che guida il Palazzo di Città. Parole chiare che sono state esternate sabato scorso in occasione dell'inaugurazione della sezione Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, il partito politico che fa capo a Giorgia Meloni. La sezione che sorge in corso Vittorio Emanuele è stata intitolata a Giorgio Almirante. Mi rifiuto di credere che a Gela tutti sono di sinistra, non è vero niente, a Gela c'è una grande maggioranza che guarda con simpatia verso la destra e con questa apertura della sezione di Fratelli d'Italia sicuramente oltre le 50 adesioni avute finora e in poco tempo ce ne saranno sicuramente delle altre. Dove sono tutti gli uomini di destra? Gli uomini di destra ci sono e loro sono timidi, ti assicuro che a piccoli passi verranno fuori. Siamo particolarmente contenti per il fatto che oggi questa sezione viene aperta qui a Gela grazie all'amico Gettano Minardi che attraverso il suo impegno ha coinvolto delle persone che sono veramente importanti e che sicuramente ci daranno delle belle soddisfazioni su tutta la città di Gela che è una città fondamentale per la provincia di Caltanese. E finalmente anche a Gela abbiamo la nostra casa. Abbiamo voluto aprire questa sede, siamo riusciti grazie ai nostri dirigenti comunali a aprire questa bellissima sede tra l'altro centrale perché vogliamo dare una casa agli uomini di destra. Stiamo cercando di aprire queste sedi in tutta la Sicilia, ne abbiamo appena aperte quattro a Catania oggi a Prama Gela, abbiamo aperto a Palermo e così continuiamo perché vogliamo stare tra la gente, in mezzo alla gente per sentire i problemi della gente e cercare nel nostro piccolo delle soluzioni concrete a questi problemi. Tra i presenti sabato scorso anche Damiano Lauretta, candidato sindaco nel 1994. Noi ci siamo accorti che il territorio ha bisogno di una vera destra, oggi non c'è una destra. Noi siamo la destra, siamo stati un po' il letargo, ma abbiamo capito che era il tempo di tornare di nuovo tra la gente, farci sentire anche perché non abbiamo niente di cui vergognarci. Di quanto ci possiamo presentare con i nostri volti, con le nostre facce, con le nostre parole come abbiamo sempre fatto. Siamo stati da parte nella speranza che qualcuno sapesse fare di meglio. Purtroppo, devo dire, purtroppo non è stato così.